Vuoi farla te o l'intro? No Non vuoi? No Sicuro? Si 100% Non vuoi diventare amico dei nostri amici? No Ma i nostri fan sono amici Ahahah che cazzo Buongiorno a tutti mi nomi è Tizmat Benvenuti in questo nuovo video un po' assai misterioso Che cazzo stai facendo? Siamo in compagnia del buon Lever Il nostro eroe di quartiere Che farà delle battute eccellente Si spera Si spera C'è un giochino che stanno facendo tutti Quindi al nostro malincuore lo facciamo anche noi Così finiamo nei correlati loro Guarda il nostro video E soldi Soldi Come funziona questo gioco? Noi dobbiamo scegliere se uno più ricercato dell'altro in questo ultimo mese In questo caso dobbiamo decidere se le Converse sono più o meno ricercate di evasione fiscale In questo ultimo mese Non è così il periodo di evasione Perito così Eh si questo è il periodo delle Converse Quindi io voto si Per favore se avete delle Converse rosse regalatemele perché mi piacciono troppo E anche quelle verdi I verdi sono belle Tu vuoi Tra la mia parte bianca davanti e sotto bianca Alto Alto Allora Sudafrica commerce Diva la portaglia Allora Waka waka è passato di moda E' un po' di anni Quindi io voto Io voto di basso Ribasso Ribasso Attenzione Sudafrica ha perso contro le scarpe Allora Qua abbiamo la zoccola Per eccellenza Contro Sudafrica Sì In alto O no In basso E' io voto di più perché Miley Cyrus comunque E' E' No L'ho ricercato 6 milioni Oh cazzo Oh cazzo Qui mi cade un mito Qui Se Jim Carrey non è stato cercato in quest'ultimo mese Io prendo un fucile e faccio una strage fuori Speriamoci di più Speriamoci di più Però mi trai di meno Io metto di meno perché il povero Jim Non si vede da un po' di tempo Jim E' un milione a male in cuore Palla a mano o Jim Carrey Io voto Jim Carrey a vita Quindi Meno Meno tu E' la palla a mano E' uno sport nazionale in America Ma che cazzo dici? Arribasso? Ok si Va bene Allora Sei the children Allora se qua sei the children E non si è stato cercato questo mese Siete tutti dei figli e puttana Ve lo dico qua schietto schietto Nessuno donna soldi Nessuno sta donando Ragazzi Tu e io dono Io Si o no? Di più? Sei the children internazionale Di più A prescindere dai Ostia che merda Siete delle persone di merda Che schifo la mezzetta Che schifo Come quello dietro Che cazzo sta facendo? La gente deve non sapere No ma Djokovic Djokovic a vita Vince Wimbledon Cioè In finale Credo di si La Bibbia o Djokovic? Io voto No Bibbia Non so No Djokovic Chi cazzo sei fonte della Bibbia? I vecchi Cercono la Bibbia Ma quale Bibbia? Te ne stanno differenti Non era più di una Eh si era uno due tre Si volcifera di una quarta Ma vabbè 2.1 che è un fake Ma vabbè Scomestina? No Ok Di meno Pareggio What the fuck? Aspetta quali capelli? In che senso? I capelli sono capelli? Allora io voto di meno Putin è troppo famoso zii Cioè Se non sei Putin Non sei nessuno Aia Zidane Sono dieci anni oggi Sono dieci anni? O ieri Questi giorni Si celebra il mondiale Di dieci anni fa In cui abbiamo fatto il culo Con dei francesi Free Ninja o Zidane? Un gioco di sei anni fa Un gioco di sei anni fa Un gioco di sei anni fa Appena uscito Era il primo gioco dell'iPhone Una delle prime app Free Ninja Io ci giocavo tutto il giorno Era fantastico Io voto di più E' ancora di moda E' ancora di moda Il Corano Di più Io voto di più Perché la Bibbia era un milione E il Corano sarà Altrettanto Pareggio di Free Ninja Mi disparsa il Corano Ma è mancato questo sito Questo sito? E' un bug E' un bug vivente Allora Free Tibet Qua c'è una sfida storica Per ricordare 1950 Invasione del Tibet Da parte della Cina Coincidenze? Coincidenze Si chiedono il tiro dopo la Cina Cina contro Tibet Io voto Tibet libero Se vince Cinese take away Mi sparo Dai Dalai Lama Punta E' il più basso fino adesso Non ho mai visto Perché? Bildenberg Qua si parla i complotti L'allergia a fieno E' complotto E' colpa loro Le scie chimiche Le scie chimiche Ci fanno bene le allergie Io non avrei l'allergia ai polli Nei cani Ai gatti E tutte le piante dell'universo Ah no Ah no Colpa loro Quindi io voto di più Siete? De complottisti di merda Guarda pure la scienza è incazzata Fa fa culo Di meno Si Puttana Pareggio Marie Curie Marie Curie Di meno Sei morta deceduta Morri E viva le radiazioni Viva le radiazioni Si Perché non sapesse Marie Curie premio Nobel Per l'isotopi del radio Radiattivo E di cosa è morta? Di radiazioni Eh Volevi Eh no No Putin era di meno del calcio Volevi essere famoso 15 attenzione Azzo La mia infanzia è contro i sovietici Anche se non esistono più però Sovietici americani sempre Siamo sempre lì Siamo lì E' un continuo Siamo sempre lì Con picose complotti Io voto Cosa voti? Io voto di meno Anche io mi sa Mi dispiace ma Toy Story è andato Martin Luther King contro Toy Story Allora siamo in un periodo di merda per i neri poracci Anche ieri Anche ieri No uno è morto anche oggi Ucciso un altro nuovo Si A Houston Allora l'ho perso Eh te lo sei perso E' di un tizio tre ore fa Quindi Che questo video poi lo vedremo tra due settimane ma dettagli Quindi Come ci hai insegnato la storia Cioè prima Qualsiasi cosa che sia culturale perde a prescindere contro le banalità Quindi Lì Io voto di meno Eh Speriamo Mi dispiace E sarebbe record Attenzione Sarebbe record Oh Oh La storia americana Questa di meno Questa di meno Si sono morti deceduti migliaia di anni fatti Ma che si è un c***o più Negli anni quaranta vediamo Vestiamo ancora con il microfono del cento avanti Cristo Aglio 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 su Rock Per chi non lo conosce è famosissimo in Australia Stai in mezzo all'Australia e se tu ci vai Sparisci E' una leggenda Molto spesso chi va lì Sparisce Si dice Siano alieni E qua compare Mr. Amon con sue teorie Io voto Di più Di più Prescindere Ricostruzione facciale Di più Ricostruzione facciale Ma vaffanculo Però figa Siamo nella top 10% dei player Al mondo figa Ok ragazzi Grazie per aver visto questo video Ringraziamo un buon Lever Che trovate il suo profilo Instagram sotto Che così risupera Leo Perché Leo l'ha superato e non va bene Leo infame per del catrame Non va bene La merda lì Sei una merda Bustato Buuu Ci vediamo in un prossimo video Tutti i giorni alle ore 18 Quasi tutti i giorni Più o meno giù di la Eee Tutti i giorni Bla 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 Tutti i giorni Tutti i giorni E' tutto E' il freddo Uuuuuu Ciao 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 Ciao